ariete dolcezza romanticismo baci e abbracci quasi a consumarvi reciprocamente tu e il partner magia di venere che riscalderà la giornata toro giove arriva nel segno e con sé porta un po di soldini che non guastano mai gemelli dinamico e stancabile ogni giornata è un incastro perfetto di mille inconvense e non sei capace di dire di no a nessuno oggi sarà anche peggio cancro sei innamorato forse l'amore con la maiuscola forse quello che cerchi da sempre non perdere la tua razionalità l'amore addizione di piacere non sottrazione leone l'eros sarà il motore di una giornata che grazie a marte sarà a dir poco decisiva e passionale troverai la forza giusta per fare scelte importanti vergine inaspettatamente senza averci creduto fino in fondo riceverai una proposta di lavoro che dovrai ponderare con attenzione bilancia mercurio ti darà la forza d'animo per chiudere una storia giunta al capolinea è ora di voltare pagina guardare in tutte le direzioni ma non indietro scorpione nettuno ti farà un gran favore oggi ti aiuterà ad andare oltre le apparenze e a mettere da parte quella superficialità che tante volte ti caratterizza sagittario ottima forma fisica senti un'energia e un benessere invidiabile fare un po di attenzione al tuo corpo durante tutto l'anno ha dato buoni frutti capricorno plutone regala un'intimità e un ventaglio emozionale come solo in un romanzo rosa si potrebbe vedere qualcosa di simile acquario qualche ostacolo professionale non spegnerà il tuo entusiasmo se tenterai di proporre qualcosa un'idea un progetto probabilmente oggi verrà bocciato in partenza pesci prudenza in tutto tranne che in amore oggi ti regalerai un po di distensione